Ciao ragazzi, in questo nuovo video vi voglio parlare della mononucleosi o meglio, della mia esperienza di mononucleosi perché per chi non lo sapesse io ho avuto la mononucleosi un anno fa e quindi in questo video dopo un anno ve ne voglio parlare per dirvi quali sono state le cause, le conseguenze e tutto e come l'ho scoperto di averla perché la mononucleosi, a differenza di tante altre malattie dà i sintomi di una banale influenza quindi è una cosa difficile che te ne puoi accorgere infatti parecchie persone ce l'hanno, l'hanno avuta però senza sapere di averla avuta allora, mi ricordo che era a giugno dell'anno scorso in cui dovevo andare dal mio fidanzato perché lui aveva l'esame in inglese mi sono svegliata quella mattina per partire, per andare dal mio fidanzato ho notato che avevo una tonsilla questa qua leggermente gonfia però non era dolorante cioè soltanto che era gonfia e basta e io vabbè partiamo perché tanto lui contava su di me poi io stavo bene non è che stavo tipo che avevo la febbre o mi faceva male la gola no, soltanto che l'avevo notato perché come ho fatto così ho sentito proprio che avevo una bella pallina qua e siccome io da sempre avevo avuto problemi di tonsillite e avevo questa parte qua della gola cioè questa tonsilla leggermente più grande non gli ho dato peso ho detto parto lo stesso sono andata da lui lui ha fatto l'esame e poi siamo tornati qua la sera con lui perché dopo il suo esame è voluto ritornare con noi quindi alla fine è tornato per starsi qualche altro giorno e anche per festeggiare il suo esame che lui credeva di non passare ma io non avevo dubbi cioè io sapevo che se bocciavano lui dovevano bocciare tutti quanti perché lui è un fenomeno con l'inglese anzi tal proposito mo che torna ho intenzione di fare un video di fargli fare un video solo a lui in cui vi parlerà solo in inglese chiaramente vediamo anche cosa dice lui però potrebbe essere un'idea e poi vabbè siamo tornati qua abbiamo cenato siamo andati a letto perché eravamo stanchi per il viaggio e tutto il giorno dopo mi sono sentita proprio male avevo i brividi di febbre proprio i brividi come quando si deve venire la febbre ha detto la mia mamma guarda che mi sono accorta che tu stanotte scottavi perché io comunque non facevo altro che lamentarmi nel sonno lei è venuta e si è resa conto che scottavo avevo la febbre mi sono messa il termometro e avevo qualche decimo però io non avevo intenzione di dire nulla al mio fidanzato perché siccome lui era la prima volta che mi veniva la febbre con lui presente un pochettino mi vergognavo e poi lui era venuto qua proprio per rialzarsi ma non mi andava di essere come un peso quindi alla fine quella mattina siamo usciti lo stesso e per di più avevo questa pallina ancora più sporgente però tutto cavolo questa è una bella influenza alla fine anche lui si è accorto che stavo male e siamo tornati a casa era un venerdì questo il sabato giorno dopo la febbre mi è scesa alla fine sono stata io a dire al mio fidanzato ma dai è giugno è estate fa caldo io voglio andarmi a divertire dai la febbre non ce l'ho più e alla fine siamo usciti siamo usciti e come siamo usciti mi veniva un po' da vomitare forse cammina mi veniva da vomitare però non sapevo spiegarlo siamo tornati a casa di nuovo con la febbre febbre possibile e invece si avevo di nuovo la febbre dopodiché eh prendo non so se un antibiotico o qualcosa che mi aveva dato la mia mamma la febbre scende però oltre ad essere scesa stavo proprio bene di nuovo bene allora ho detto al mio fidanzato ma è pomeriggio dai usciamo era sabato pomeriggio siamo usciti per chieti quando all'improvviso mentre stavamo in giro per chieti comincio a sentirmi male ma proprio male avevo delle fitte proprio qua allo stomaco mi veniva da vomitare avevo i brividi mi girava la testa mi sentivo manca proprio stavo male però ovviamente per dove ci trovavamo noi comunque il tempo per tornare a casa ci vuole perché io sono uscita che proprio stavo come oggi bene proprio non so spiegarlo ma situazione assurda alla fine proprio sotto casa sono svenuta per qualche secondo allora il mio fidanzato ha capito che c'era qualcosa che non andava perché sì d'accordo lo svenimento d'accordo quello però c'era qualcosa che non andava la mia mamma nel frattempo dovevamo aspettare per forza lunedì però intanto lunedì è andata dal dal medico perché io non potevo non potevo proprio muovermi perché dopo di allora stavo proprio ridotta proprio uno straccio non lo auguro a nessuno e praticamente ricordo che che proprio lei era andata dal medico e tornata proprio quella mattina che tra l'altro era proprio la mattina in cui il mio fidanzato doveva ripartire che io non sono non ho potuto neanche accompagnarlo in stazione mi è dispiaciuto tanto perché stavo proprio male anzi io volevo accompagnarlo però sono stati loro il mio fidanzato compreso a dirmi no 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 meglio di no perché stai proprio male e quindi alla fine l'ho dovuto salutare proprio rimanendo a casa mi è dispiaciuto tantissimo comunque tornata con l'antibiotico me l'ha dato l'ho preso sono stata meglio ho fatto una cura con l'antibiotico però la febbre non faccio altro che andare e venire come? cioè sto facendo la cura con l'antibiotico la febbre non se ne va era strano allora la mia mamma torna di nuovo dal medico visto che io non potevo muovermi dice guarda l'antibiotico non sta funzionando che vogliamo fare? e il medico mi aveva scritto delle punture ho fatto la cura con le punture ma niente mi hanno fatto praticamente il solletico nel frattempo la mia mamma ha chiesto parere al vecchio medico di famiglia che tra l'altro ci sta pure una certa confidenza quindi uno che è sto parere dice guarda così 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 e lui mi e lui ci dice potrebbe essere mononucleosi la mia mamma torna di corsa dal medico guarda che forse non vorrei essere fra l'intesa però potrebbe essere mononucleosi perché c'ha le tonsille comunque gonfio avevo tutti i sintomi proprio della mononucleosi anche il fatto che non avevo mai fame anche questo mette la mononucleosi cioè io mi sforzavo a mangiare però non mi andava ecco e il medico dice soltanto guarda finiamo la cura con queste punture e poi si vedrà però io dovevo andare da lei perché lei comunque non aveva tempo per venire a casa e va bene finiamo la cura e niente proprio zero cioè stavo sempre male sempre questa febbre che faceva come cavolo ripareva a lei e basta a un certo punto un giorno che sono stata meglio che non significa stare bene è successo che ho detto alla mia mamma oggi o mai più andiamo da questo medico e vediamo sono andata al medico mi sono sentita male proprio lì dentro dentro lo studio perché proprio proprio stavo piegata per non so spiegarlo proprio ho cominciato a sentire freddo pure se stavo a giugno forse mi doveva tornare la febbre non lo so però io ho detto devo resistere perché qua devo vedere cosa ho fatto perché non è possibile una cosa del genere e alla fine tocca a me il medico mi visita dice guarda c'hai le tonzille molto gonfie facciamo così vai in ospedale e fai le analisi per vedere la mononucleosi sono andata in ospedale ho fatto le analisi e effettivamente sono risultate positive avevo la mononucleosi in corso che tra l'altro mi è stata diagnosticata dopo due o tre settimane che io ce l'avevo perché nessun medico veniva a casa a vedere cosa avevo fatto e nessuno e io chiaramente non ero in grado ecco di di muovermi da casa perché stavo proprio male troppo male per poterlo fare e alla fine che si fa che non si fa il medico dice guarda qua devi fa assolutamente quello che dico io altrimenti finisci all'ospedale quindi ho dovuto eliminare schifezze di ogni genere mangiare soltanto leggero ho dovuto eliminare l'aranciata perché chiaramente poi ho dovuto fare anche delle ecografie per vedere come stanno come stavano il fegato e la milsa e la milsa è risultata ingrossata che tra l'altro questa milsa mi ha procurato dei problemi perché perché in quelle tre settimane io credendo che fosse una normale influenza continuavo a fare le cose di sempre chiaramente con un altro ritmo però le facevo ecco la milsa in quelle condizioni non potevo tanto ecco dovevo starmi attenta a evitare delle lesioni perché poi a settembre dello stesso anno sempre l'anno scorso è successo che era verso l'una di notte in cui la mia mamma salta giù dal letto perché io urlavo dal dolore da un forte dolore proprio in questo punto dell'addome era un dolore atroce che io non auguro a nessuno proprio per me era come avere una mano invisibile che mi tirava le martellate di continuo proprio una cosa allucinante la mia mamma alla fine è venuta in camera dove dormivo io e voleva sapere la situazione io ho detto che mi faceva male qua lei comunque in quel momento non è che si poteva fare granché perché almeno in questa città se ti succede qualcosa i medici non vengono mai a casa non so perché non so se anche da voi nelle vostre città è così però qua vi posso assicurare che è così alla fine è passata la notte mi sono addormentata perché mi ha fatto mettere lei in una posizione che alleviava il dolore poi mi sono svegliata la mattina dopo con lo stesso dolore sono andata in bagno perché chiaramente ci dovevo andare e come sono andata in bagno mi sono resa conto che avevo praticamente creato come un fiume di sangue c'era e in quel caso mi sono allarmata tantissimo perché pensavo di avere un'emorragio interna per me è stato terribile sono corsa a chiamare la mia mamma lei cioè i miei genitori tutti e due mi hanno portato di nuovo in ospedale a fare altri accertamenti però per me è stato terribile ancora adesso anche se è passato un anno mi sono resa conto che che non sono ancora guarita del tutto perché ogni tanto perché ogni tanto ho dei problemi di tonsille cioè mi si gonfiano molto di più rispetto a prima ecco mi ammalo molto di più spero di riuscire a superare anche questa ovviamente sì tutto si può fare chiaramente ci vuole tempo perché il fatto che la mononucleosi rimane sempre dentro di noi come mi ha detto uno dei medici che mi ha visitato perché parecchi medici mi hanno visto mi ha detto queste sono leggende metropolitane cioè è vero che la mononucleosi rimane dentro di noi ma per un lungo periodo di tempo non per tutta la vita quindi prima o poi prima o poi tornerò spero presto essere quella di prima però quando ho visto tutto quel sangue ragazzi la prima cosa che ho pensato ho detto la milsa si è lacerata e pensavo con rispetto parlando perché forse farò anche peccato però pensavo che sarei morta non lo so non lo so vi giuro ragazzi è stato per me orribile anche perché la prima volta che mi succede ho detto cavolo quel sangue è uscito da me bene bene ragazzi questa era la mia esperienza di mononucleosi spero di non avervi impressionato con la mia storia se avete anche voi delle storie da raccontare scrivetemi qui sotto nei commenti che le dico nei prossimi video se volete rimanere anonimi basta che mi scrivete sempre in privato che volete rimanere anonimi così non c'è problema racconterò sempre la vostra storia ma in maniera anonima che potrebbe essere chiunque quindi ragazzi questo è tutto